Il basso rilevo di Vito Pancella torna al quartiere di Civitanova. Dopo due anni il vostro quartiere torna ad essere vincitore. Una lotta all'ultimo fiato con il quartiere Borgo, ma alla fine ce l'avete fatta. Sì, è stata una bella lotta, soprattutto nell'ultimo gioco dove è stata bella combattuta. Volevamo arrivare anche all'altro trofeo, però non ce l'abbiamo fatta. L'importante è che ci siamo divertiti dopo due anni di stop dovuti ai problemi che sappiamo bene. Riniziare con una vittoria è stata una bella soddisfazione. Anche con ragazze nuove nella squadra che comunque non hanno mai giocato, anche per loro è stata una bella vittoria. È bellissimo soprattutto vedere che c'è amicizia anche tra i diversi quartieri e tra le diverse squadre. Quindi sì, c'è un agone, però siete comunque amici. Sì, in realtà siamo anche amici, giochiamo insieme da diversi anni e ormai c'è entrata anche questa sorta di amicizia e confidenza che ci permette di ride e scherzare tutti insieme e anche, se vogliamo, un divertimento fuori dal normale con un po' di rivalità.